buongiorno buongiorno signori noi siamo qui a mosca come puoi vedere il biglietto per il gerano paolo no? ora vi porto a vedere come si compra l'abitol per il farmaco anti coronavirus che sono 46 anni che sta qui in commercio e ce l'hanno i russi guardate un po' la farmacia ci troviamo all'aeroporto di mosca andiamo in farmacia e andiamo a comprare questo famoso abitol contro tutti i coronavírus good morning e l'abitol abitol 20mg 20mg questo è 10 10mg 10mg 20mg no no sono 10 capsele ok devi una scatola? no due due allora via un'altra un'altra fermo fermo ecco qua guardate tutti guardi è il famoso coso del coronavirus ok voi mi potete dire in Italia come mai sono state sono morte così tante persone per questa cosa? per questo farmaco? per questo farmaco noi non ce l'abbiamo e loro ce l'hanno ok un bacione da mosca ok ok perfetto ok Grazie.